bella ragazzi siamo i grananas e oggi sono raffreddato io no, io non sono dei grananas eh sì, io sono raffreddato io sono stanco, sono 10 minuti che devo partire benissimo, si comincia perfetto perché lui è già stanco quindi oggi su Terriulan ci sarà lui conoscete benissimo la serie quindi non c'è bisogno che vi spieghiamo cosa andremo a fare se no sei stanca, dobbiamo spiegarsi che ne facciamo casuali sì, sì, facciamo casuali casuali, 3, 2, 1 a lui usci per Real Madrid oh, per culo no, no, gioca va, va, che te frega giallo, ti batte un altro, so più di tutti i patodori e cominciare! sobbene, hola, da te lo spazio, da te lo spazio ogni parte, farlo io mi avevo mai, tu e' mai tornato, palissimo, eh, po tu capiscono ma è difficile, ho un commento se no, mamma mia quanto forse, donna o comp reins la sua mappa stessa settimana e fa bene io devo perdono ti vuole ti vuole forno scuole ma parla non c'è la mia per ieri un uomo di vera ma che fa per te molto controllo la roba la roba la roba la roba la roba spasso latino posto posto cambiano ovvio Oddio! Guarda che c***o! Guarda che c***o! Guarda che c***o! Carisma! Ma c***o c***o! Adesso Ecco Guarda ma tu stasse c***o vero? C***o Toccami il tasto con l'influenza Sì Quattro Ma stai a fare fulcro è quattro e mezzo Vai vai Iram Mosca avanza Curani Curani Oggi una suola Curani Il tiro rigore Questo rigore un esempio di che gioco meglio sul tavolo Ronaldo Ronaldo Non è rigore ma dove? C***o 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 di nuovo c***o C***o di nuovo c***o Tiαι Ho dovuto pure amcilare sotto Modrici 승ino Modrici il tiro Tiro Allora Pol c***o Col empre Chi tiro Fr. Vice Adrian Il primo tempo qui A 6 e mezzo Dai crypto Studio Coc knit 1 analgo Carculo operoooo Fatto Po datico Ma quale palla? Che cazzo vuoi questa palla? Ma che dolore Ma che dolore Ma che dolore Ma che dolore Stoca Sto cari No no Dai E' un equilibrio Allora intanto quando c'è lo schema Attenzione lo schema Drogniasci Oddio Oddio dove vanno Oh no Oh no Ma quanto stai? Ce la faccio Oh tu e mezzo è su Non ce la fai Si ti convenga Prima sali sopra Oh Oh Sì ma chi fai? Oh Guardi 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 Questo è l'ultimo video che vedevi. Sì So gazzconi Io ho già conosciuto Guardi 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 una piazza io ero buonanotte il per 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 la mano a per 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 la mano c'è la carta la fa lasciata uuuu mezza 2 nooo è regolare è regolare che questo rumore che questo rumore non lo so però lui sta veramente stitando ragazzi è un fardo dai che stino ahahahahah ahahah no ho fatto l'altra parte è regola è merda tutta salute dai io amore se li vede no boh fa la furbata boh fa la furbata che ci riesce è bello che qua lo faccio vedere si firma chi lo so trovo e finisce qui finisce ahahah ma forse non capite il video è finito qua prenditi il tuo tempo tranquillo ahahah lasciate ahia 3.000 like vanno bene si 3.000 like 3.000 like che guarda un filo bello che è il sito perché devo fare l'annuncio 3.000 like e faremo sul mio canale ogni goal un cazzotto in pancia con david no non solo se segno io ma pure se segna lui allora voi ne voglio 4.000 3.000 perchè ho detto io dovete fare 3.000 va bene pure 2.000 sei davvero il testo di merda ahahah fado 2.000 e 3.000 like ok a 3.000 cazzotti sono più forti ok vabbè bella non c'è più la veloce c'è bisogna fischia orecchie ahahah è la tosta vabbè ragazzi diciamo che questo video è finito no fate in me da rax che infarta è tutto è tutto ci stai si oh si passero ciao